Ha vissuto diversi anni a Varese e la sua presenza soprattutto nel mondo giovanile è stato incisivo e rilevante. Oggi Don Luca Violoni è ritornato nella città Giardino, tra coloro che guardano al futuro professionale e non solo, con occhi non proprio sereni, il mondo universitario. Nella prima serata, promossa dall'Associazione Varese Studenti con il contributo della Commissione per le attività culturali e ricreative dell'Università dell'Insubria, Don Luca ha raccontato il suo percorso di vita, dall'adolescenza agli studi bocconiani, dalla scelta del seminario fino ad essere il segretario generale della Fondazione Family 2012. L'invito è quello di avere sempre orizzonti ampi, di non appiattirsi e di mettersi in gioco valorizzando i doni ricevuti. È questa la ricetta per affrontare le sfide attuali. Credo che oggi nel momento in cui stiamo vivendo per un giovane è veramente il punto vero di avere un quadro che abbia un orizzonte temporale relativamente più ampio e più grande, il rischio di essere davvero appiattiti sul tempo dello studio oppure solo sui primissimi anni dopo l'università. Invece è importante che un giovane, guardando al proprio futuro, possa dire che posso davvero investire, posso costruire una famiglia, posso coltivare la mia vocazione, il mio percorso lavorativo. C'è bisogno di un orizzonte temporale nuovo e diverso. Al tempo stesso c'è bisogno anche di trovare una disciplina nella propria vita spirituale, ma anche nel modo di gestire gli affetti. Oggi siamo un po' vittima di un'epoca, la cosiddetta, di gratificazione immediata. Se uno non avverte una gratificazione alta e forte, si deprime e si può scoraggiare, mentre invece no. Non bisogna essere vittima di questo, bisogna approfondire la conoscenza di se stessi, di ciò che uno vive, parare a fare discernimento e le proprie emozioni devono essere un trampolino di lancio verso il futuro e non un blocco nel presente.